Michelle Hunziker, clamoroso scoop alla vigilia del Festival di Sanremo. Un clamoroso scoop, di Novella 2000, sulla neoconduttrice di Sanremo, proprio alla vigilia del Festival, Michelle, infatti, sarebbe incinta per la quarta volta. Pare che la nonna, la madre del marito, abbia comprato già vestitini azzurri, presto per sapere se sia maschio o femmina, ma sicuramente dopo tre femminucce, la nonna e non solo, spiara nel maschietto Trussardi. Quindi, il desiderio rivelato alla rivista Grazia, solo pochi giorni fa, in cui disse, abbiamo anche pensato di fare un altro figlio, magari un maschio, era già, una confessione tra le righe. Beh, che dire, auguri, e, figli maschi.